Ciao, non mollare mai, esiste sempre un'altra possibilità, questo devi tenerlo sempre in conto. In ogni situazione, anche la peggiore che ti può capitare, tu devi tenere duro e devi insistere e non devi mai lasciarti andare, perché si possono perdere tante battaglie, ma alla fine se tu insisti, vincerei la guerra. Perché chi è che perde la guerra di fatto? Perde la guerra chi perde l'ultima battaglia. Ma chi è che decide qual è l'ultima battaglia? Decide chi è l'ultima battaglia e chi si arrende. Se tu ti arrendi davanti alle cose vuol dire che hai perso, ma hai la possibilità di non arrenderti, riorganizzarti e di ritornare più forte di prima in tutti gli ambiti della vita, nell'ambito sentimentale, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, nella salute, dappertutto. C'è un appuntamento sicuro, questo sì, è l'appuntamento con la morte, ma anche lì c'è un'ulteriore possibilità, perché in quel momento lì, nel momento della morte, hai la possibilità di avere una rinascita migliore, quindi hai sempre un'altra possibilità, devi tenerlo in conto questo. Quando la vita ti colpisce, quando la vita ti ferisce, quando sembra che tutto sia contro di te, quello è il momento di tenere duro, perché se tu supererai questo momento di fatica, questo momento in cui sei ferita, sei ferito, in cui sei stato colpito, se tu riuscirai a tenere duro e a riorganizzarti, a insistere, senza mai lasciare, senza mai lasciare, fino all'ultimo respiro non devi mai lasciare, vedrai che risorgerai, risorgerai più forte, consapevole di prima, con un'altra possibilità che non pensavi nemmeno che potesse manifestarsi, invece si manifesterà come dalla magia dell'universo, dal cilindro del mago, uscirà fuori qualcosa che non ti aspettavi, qualcosa di veramente positivo per te, che riuscirà a trasformare e a migliorare davvero la tua vita, però devi crederci, perché se non ci credi per primo tu, come puoi pensare che l'universo ti possa aiutare? L'universo o una divinità o Dio o qualcuno, tu devi credere in te stesso, se credi in te stesso ti aiuteranno, chiunque sia, comunque farai in modo che le cose andranno, perché è un segnale che tu dai, la determinazione, la forza, il coraggio di tenere duro, il coraggio di tenere duro, è un grande segnale che si lancia all'universo, si attiva inesorabilmente e inevitabilmente una legge d'attrazione che ti permetterà di risollevarti, che ti permetterà di vincere, di vincere la guerra, la guerra più importante è quella con se stessi, è veramente la guerra più importante, quindi devi tenere duro e ricordati che esiste sempre un'altra possibilità, devi solo coglierla, devi solo resistere e se resisti questa cosa si manifesterà, si manifesterà e avrai delle sorprese positive, la tua vita si ribalterà in senso positivo e riuscirai veramente a raggiungere dei traguardi e delle situazioni che neanche immaginavi, che neanche la tua più fervida immaginazione avrebbe potuto sperare, devi solo crederci e resistere. Bene, per questo video è tutto, lascia i tuoi commenti qua sotto, iscriviti al canale, ciao!